buonasera eccoci qua da sera si mangia per i nostri corallini abbiamo rotiferi ecco pepodi direttamente dalla nostra produzione fatta in casa tocca sana per i nostri animali appena appena pescati mi facciamo stare qui un paio d'ore perché mi ho messo due vitamine e un po di aminoacidi appena appena per una puntina proprio una puntina un paio d'ore e dopo la cena è servita ma questo non è la cena praticamente questo fa formare un ecosistema vivente nel nostro acquario produi riproducendosi anche nelle rocce loro anche si infiltrano nelle rocce andando così a produrre della fauna nel nostro acquario io penso che sempre meglio dargli del vivo che del chimico che sia in polvere che sia liquido secondo me non ce n'è nessuno fitoplancton e zooplancton da quando ho scoperto questi la mia vasca è cambiata più colorato e tutto quanto dai per me non c'è niente secondo me di meglio a questo guardate c'è una super concentrazione di animali ragazzi ci vediamo al prossimo video vi auguro una buona serata ciao ragazzi ciao